benvenuti nel magico mondo dei libri mi presento io sono luigi il bibliotecario e oggi vorrei farvi conoscere la sezione ragazzi della biblioteca civica ricottiana di voghera andiamo nascoste tra queste pagine ci sono centinaia di avventure pronte a essere vissute basta aprire un libro sentire il profumo e iniziare a sfogliare le pagine i libri sono suddivisi per argomento albi illustrati prime letture narrativa poi ci sono i libri fantasy di avventura horror e anche i fumetti ci sono libri che aiutano a studiare scienze geografia storia il corpo umano e tutti gli animali è presente una grande collezione di film sia per i più piccolini sia per i più grandi e che possono essere presi in prestito la biblioteca civica ricottiana di voghera ha creato anche uno spazio prezioso dedicato al gioco e allo stare bene insieme la ludoteca sono certo che tra poco potremo rivederci tutti in biblioteca vi aspetto ciao da luigi il bibliotecario